ciao ragazzi mi trovo in stazione centrale a milano e sto andando a furigno per incontrare due amici che chi mi segue conosce già per una collaborazione speciale ecco vanni buona sera ragazzi benvenuto nella mia serie bene ragazzi siamo arrivati a foligno vanni è stato gentilissimo e mi è venuto a prendere in stazione e noi dobbiamo ancora registrare le nostre voci che registreremo tra un po io non ho mangiato quindi mangeremo e poi non hai mangiato nemmeno no e potevi mangiare prima educazione dai no è troppo vanni è troppo bravo vabbè niente ci rivedrete in studio credo a dopo a questo è lo studio di vanni c'è vanni che leggermente camera shy nel senso non è molto non parla tanto in camera guarda che bello tra un po viene anche costantino che ci raggiunge e adesso niente canterò io ragazzi sono io ok baby i'm dancing in the dark with you between my arms barefoot on the grass listening to our favorite song when i saw you in the lo ragazzi vieni qua dove sono ahNo e io Ricomuous femminile fr stanchi abbiamo perso una coincidenza Siamo venuti a prendere Costantino e Elia Finalmente arrivati Dopo un brevissimo viaggio Abbiamo perso il treno La coincidenza per Foligno E quindi abbiamo aspettato Un'ora e mezza Ad Ancona Però adesso sono tornati Venuti con noi Mangeremo una pizza E continueremo a lavorare Perché domani giriamo il video E chi ci aiuterà a fare il video? Chi girerà il video? Videomaker d'eccezione Vabbè ragazzi A dopo Ciao E' andato Noi abbiamo finito Di registrare la musica Tutti gli strumenti Abbiamo una prenotazione al sushi Abbiamo una prenotazione al sushi Per le dieci e mezza E speriamo di finire Prima delle dieci e mezza Perché adesso sono le Otto Sette e trentacinque E niente Tra un po' inizieremo Quello in fondo lì è Costantino Che si sta arrampicando Sulle palme Posso dire Per mettere la luce E' un po' inizieremo Ok 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 Giusto? Ma qui devo tirare Giusto? Qui devo tirare Lei è la nostra videomaker speciale Lo sei tu? Come te lo senti? Come te lo senti? No Comodo, cioè non è molto stretto Aspetta È più leggero rispetto a mantenere tutto il tutto È normale Ah ok Ok Take 1 Intro pianoforte I never knew you were the someone waiting for me Cause we were just kids when we fell in love Not knowing what it was I wanna be you this time Ragazzi il faro è spento Vado io? Noi abbiamo finito di girare È molto tardi, abbiamo fame Però è l'una di notte, non abbiamo mangiato Abbiamo dovuto annullare il sushi che avevamo ordinato E niente Ma è incantato Costa Costa Questa la lascio Sì questa la metti Questa la metto Stiamo montando il video Siamo sempre nello studio di va Nooo Ecco allora Sono finti, sono finti Non è vero Non è vero Non è vero Cioè ragazzi Raga io ho un'immagine seria su YouTube Cioè non è che posso ruttare cose Non è vero Comunque raga stiamo montando Avevo un'immagine seria E' festa Abbiamo finito di montare il video Vieni Costa 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 è stato ovviamente il regista Montatore Siamo molto stanchi Vanni è già giù Domani ci saluteremo Domani mattina Niente ragazzi Speriamo che vi piacerà Il risultato Pianoci Speriamo che vi Pianoci Possa piacere il risultato Ciao Ragazzi buongiorno Vanni mi sta accompagnando in stazione Perché stiamo partendo Abbiamo finito Costantino non si è svegliato Costantino e Elia sono rimasti a casa Ma visto che partono col treno di dopo Vanni sarà così gentile da tornare a prenderli E niente raga Noi tra un po' pubblicheremo Cioè tra qualche giorno pubblichiamo la cover Anzi no Voi lo vedrete quando la cover sarà già uscita Spero quindi ragazzi che la cover vi sia piaciuta Se non l'avete ancora vista Andate a vederla nel canale di Costantino Iscrivetevi al canale di Vanni E niente ragazzi Alla prossima nostra collaborazione insieme Costa mi dispiace Quando devi esserci tu a dire ciao e a chiudere il video con noi Ma non ci sei E vabbè la prossima volta svegliati più in orario Ci manderà un videomessaggio È un po' pubblicheremo È un po' pubblicheremo E vabbè la prossima volta svegliati più in orario E vabbè la prossima volta svegliati più in orario